Ancora tanto da giocare, devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. Aggressività e verticalizzazione. Magnifico gol! Magnifico! Questo è un gol stupendo! Stupendo! Subito il raddoppio. Ha colpito la palla in modo perfetto e ci ha regalato un gol meraviglioso. Bel colpo questo, ma non l'hanno pressato abbastanza bene. E forse il portiere aveva la visuale ostruita da vari giocatori in area di rigore.